Questa è una porta che nasce dal concetto del ritorno del passato, per cui va a recuperare codice, forme e colori di quelli che erano i provocatori anni 60 e 70. Siamo andati a riunirli e enfatizzarli in un prodotto del genere. Questa porta si chiama Asola, ha un particolare sistema di apertura che evoca un po' quelli che erano i vecchi frigoriferi. Abbiamo voluto accentuare ancora di più l'ironicità di questo prodotto andando a mettere dei pannelli di vestimento che enfatizzano la giocosità di questa porta. Un'altra caratteristica è la presenza di cerniera scomparsa. È uno studio sulle finiture che va dallo studio di abbinamenti cromatici fino ad andare a curare il dettaglio della singola dite che permette l'accesso alla struttura della porta.